si parte bene ma è che finalmente insieme a pesca sì se vuoi pesci? E' un po' fischi! Fischi! E' un po' fiole! E' un buon giorno per fischi! I chips! Ragazzi, ma che lungo che è? Primo pesce a jerk! Quest'esca sta facendo miracoli! Lo misuriamo subito! 42! Bellissimo! 42! 42 jerk! Spettacolo! Grazie Michael! E' un po' fiole! E' un po' fiole! E' un po' fiole!